Buongiorno amici rossonieri, ben ritrovati a un nuovo video sul nostro canale YouTube AC Milan Insight. Allora, prima di partire vi ricordo di seguire questo canale e mettere like a tutti i nostri video. Allora, domani alle 21 a San Siro si giocherà il playoff di andata di Europa League contro i francesi del Rennes. Partita molto importante per il Milan per proseguire il cammino europeo dopo l'eliminazione dalla Champions League e la retrocessione, tra virgolette, nella seconda Coppa continentale, è obbligo per i rossonieri andare il più avanti possibile e anche cercare di vincere questa competizione. Ricordiamo che l'Europa League, o come si chiamava prima Coppa UEFA, è l'unico trofeo che manca nella bacheca di via Aldorossi. Per la formazione al momento probabilmente sarà sempre la stessa, anche perché in difesa si è rientrato Ciao, però difficilmente domani sera sarà schierato titolare, quindi dovrebbe partire dalla panchina con Kier e Gadda sempre centrali. Calabria non c'è perché è infortunato, quindi dovrebbe essere Florenzi a destra con Theo e Nandez a sinistra. Il centrocampo, Love2Chic e Adli sono sicuri di una maglia e poi bisogna vedere tra Benasser e Reinders, però nulla vieta che il centrocampo potrebbe essere formato anche da Benasser, Reinders e Love2Chic, che è quello pensato dallo staff tecnico e dalla dirigenza a inizio campionato come il centrocampo titolare del Milan. Davanti dovremmo vedere il solito tridente con Pulisic, Leao e Giroud. I francesi del Rennes, quando sono stati accoppiati al Mina, erano in difficoltà. Ora invece vengono da una serie positiva di risultati tra Ligue 1 e la Coppa di Francia. Quindi questo era come vi avevamo annunciato a dicembre, quando si erano stati fatti i sorteggi. In pratica le competizioni europee o Champions League, Europa League o Conference League variano al momento, perché per andare avanti e anche per vincere serve fortuna nei sorteggi, situazioni infortuni e anche il momento della squadra. Il Rennes a dicembre era una squadra che tutti quanti davano come squadra abbordabile, perché era in difficoltà, addirittura se non ricordo male era quart'ultima o quint'ultima in classifica. Ora invece viene da un filotto di risultati positivi, da dove non perde, se non ricordo male, da 8 o 9 partite tra Ligue 1 e Coppa di Francia. A questo punto, quindi giovedì, il Milan si gioca l'andata, giovedì prossimo il ritorno, in una settimana ci giochiamo l'accesso poi agli ottavi di finale dell'Europa League, quindi il continuo del cammino europeo. Domani sera, vi ricordo, quindi ore 21 a San Siro per quanto riguarda Milan Red. Nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa di Pioli, per tutti gli aggiornamenti e tutte le dichiarazioni del Teco in Grosso Nero vi rimando ai nostri canali social, che ve li ricordo, quindi di andare a seguire Instagram, Twitch, Twitter o X, Facebook, TikTok. Grazie a tutti e sempre Forza Milan. Grazie a tutti.